Scrivi famiglia, leggi futuro. Perché è lì che si muovono i primi passi nel mondo e la famiglia è il cuore della società da cui deve nascere e propagarsi la speranza. Questo principio è il filo conduttore del meeting organizzato dal forum delle associazioni familiari del Lazio. Cinque giorni di incontri spirituali e riflessioni nell'istituto salesiano Pio XI di Roma, ma anche momenti ludici, ricreativi e formativi a cui sono invitati papà, mamme e bambini. L'obiettivo è di promuovere nel nostro paese la cultura della famiglia, che in tempi di crisi rappresenta per molti un vero e proprio ammortizzatore sociale. Il ruolo della famiglia è quello di, in questo momento, di reggere le forti pressioni che vengono sotto molti aspetti da tutto il paese. Cioè, al primo luogo la pressione economica, ma poi c'è una pressione antropologica che sta indebolendo la famiglia. Famiglie e giovani, un binomio che rischia di diventare privilegio di pochi se le istituzioni non svilupperanno maggiori politiche in tal senso. La famiglia, insomma, deve tornare a essere una risorsa. Siamo la voce della famiglia. Ecco, vogliamo veramente renderla ancora più forte questa voce, perché sia la cultura che i media che le istituzioni sembra che invece l'abbiano volatilizzata, l'abbiano fatta scomparire. In realtà vogliamo dire che ci siamo, che stiamo reggendo il paese e che alzeremo la nostra voce se non verranno rispettate quelle che sono le nostre esergenze.